Scoperta ad Alghero, in seguito a una verifica fiscale, svolta dai finanzieri della locale compagnia, nei confronti di una società edile, un'evasione fiscale di 83.000 euro negli ultimi 5 anni. Il titolare dell'azienda, che aveva dichiarato all'erario di non svolgere alcuna attività lavorativa, percepiva da diversi mesi il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. L'imprenditore, che opera nella città catalana, pur essendo titolare di un'attività economica da diversi anni, nella dichiarazione sostitutiva unica, presentata per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, aveva chiesto di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale, perché non produceva alcun reddito. La verifica della finanza ha fatto emergere una diversa situazione patrimoniale ed economica del soggetto, che nonostante fosse a conoscenza dell'attività ispettiva dei finanzieri, ha continuato a percepire il contributo per i circa 3.300 euro, contributo che è stato sospeso solo in seguito alla comunicazione all'Inps da parte della Guardia di Finanza di Alghero. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria.